Un anno nuovo sta iniziando e bisogna partire con le idee chiare, per cui vi mostro un nuovo modo per servire in tavola delle crespelle e dei ravioli, o dei ravioli che sembrano crespelle, o forse una crespella che si sente un raviolo, non lo so, vedete voi, è uguale. Ingredienti per i ravioli soffici 1 litro di latte 300 g di cavoletti di Bruxelles 1 kg di indiviariccia 10 mazzancolle 2 spicchi d'aglio 4 acciughe 2 uova 350 g di farina qualche noce di burro e del sale Mondate i cavoletti di Bruxelles eliminando la base e le foglioline più esterne Divideteli a metà ed immergeteli in acqua per lavarli bene Scolateli e portateli in una pentola con una noce di burro, del sale, mezzo litro di latte e lasciate cuocere coperto a fuoco moderato Versate dell'olio in una pentola con dell'aglio a pezzetti Le acciughe tritate e fate soffriggere Lavate l'indiviariccia e tagliatela in piccoli pezzi in questo modo Quindi unitela al soffritto Mescolate Salate e lasciate cuocere A metà cottura ponete al centro dell'indivia le mazzancolle Copritele con la stessa verdura e fatele cuocere a fuoco lento sempre con il coperchio Mentre il tutto cuoce preparate la pastella per le crespelle Sbattete due uova con il sale ed iniziate aggiungendo prima della farina poi del latte e così via alternando gli ingredienti fino a finirli Passati 5 minuti di cottura togliete le mazzancolle dalla pentola servendovi di una pinza e fate finire di cuocere l'indivia a fuoco alto e scoperta per far evaporare il liquido Una volta cotti i cavoletti rendete l'impasta con un frullatore ad immersione Essendo bollente è bene usare un paraschizzi Fate lo stesso con l'indivia riccia Riportatela sul fuoco e fatela addensare aggiungendo un cucchiaio raso di farina Una volta freddata la crema di cavoletti unitene la metà all'impasto per le crespelle ed iniziate a cuocerle scaldando in una padella antiaderente una piccola noce di burro Versatevi un mestolo di impasto cuocete bene da un lato e poi dall'altro quindi fatele freddare leggermente su un tagliere di legno Ancora calde ponete ripieno di indivia su un lato insieme a metà mazzancolla Spennellate intorno un poco di pastella Richiudete su se stessa la crespella e tagliate il raviolo con un coppapasta tondo Con lo scarto di crespella vi suggerisco di ricavare dei bellissimi maltagliati che potrete utilizzare come guarnizione per un gustosissimo brodo di carne da servire in un'altra occasione Presentate i ravioli su un elegante servizio di vetro artigianale disponendoli su un letto di salsa di cavoletti e guarnite con delle mazzancolle e del prezzemolo a giulieme Una cosa sicura è che questo piatto è molto adatto alla stagionalità e alla ricorrenza Potete servirla su un elegante tavola o su un buffet A questo punto non mi rimane che salutarvi e farvi gli auguri di buon anno da parte mia e di tutto numeri da poco Grazie a tutti